Benvenuti su Italia Gossip Express. Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. È un piccolo gesto ma per noi è fondamentale. Grazie per il vostro supporto. I dettagli dell'indagine sulla morte di Liliana Resinovic aggiungono un nuovo strato di mistero. Durante la trasmissione televisiva, quarto grado, Sebastiano Visintin ha ascoltato con crescente sconcerto le parole di Sergio, fratello della defunta, il quale ha lanciato pesanti accuse e dichiarazioni cariche di significato nei confronti del cognato. Dopo la riesumazione del corpo della sessantenne residente a Trieste, Sebastiano Visintin ha radicalmente modificato la sua opinione sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna. Se in precedenza propendeva per l'ipotesi di omicidio, dopo tale evento ha espresso una ferma convinzione riguardo al suicidio. Contraddizioni emerse chiaramente dalle parole del fratello Sergio, il quale, di fronte alla proposta di discutere la questione, ha reagito in maniera netta e decisa. Te lo dico chiaro e tondo, non voglio parlare con te. Poi, la fai da due anni, dici bugie anche alla polizia. Hai detto bugie, te ne rendi conto? Dici tutto e il contrario di tutto. Ma stai scherzando? Ha affermato Sergio Resinovic, aggiungendo, continui a dire, dobbiamo trovare. Cosa vuoi trovare? Io non devo trovare nulla. Sebastiano Visintin sospetta che qualcuno possa avergli dettato le parole da pronunciare, un'ipotesi che Sergio Resinovic rigetta categoricamente. Nessuno mi ha mai suggerito nulla, lo apostrofa chiamandolo, pagliaccio. Infine, Visintin gli fa un'offerta di incontro, ma Sergio Resinovic chiude la conversazione con decisione. Meglio se non ci vediamo, altrimenti a quest'ora sarei in qualche prigione in Italia. Cosa ne pensate di questo scontro? Chi è il colpevole? Se volete esprimere la vostra opinione, lasciate un like e commentate. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Grazie.